bene amici concludiamo questo ciclo di tre video tutorial vedendo adesso come ci si iscrive a un canale e come si attivano le notifiche ci troviamo nel canale di mary arena dancing angels un canale che seguo da almeno un paio di anni nel senso che proprio mi occupo della sua youtube positioning vediamo come ci si iscrive si clicca qui scriviti perfetto adesso sono diventato iscritto è molto semplice attivare le notifiche basta fare clic sul simbolo della campanellina perfetto vedete che qui a questo punto riceverò tutte le notifiche se ci clicco di nuovo interromperò la ricezione delle notifiche esattamente se voglio disiscrivermi basta che io clicchi di nuovo qua e mi disiscrivo perché vi incoraggio a iscrivervi ad un canale youtube quindi a quello di mary arena ma anche al mio digital store network per un motivo molto semplice perché se vi iscrivete al canale youtube e attivate le notifiche tutte le volte che io pubblico un video o tutte le volte che mary pubblicherà un video voi riceverete una notifica e potrete ovviamente essere liberi di andare a guardare oppure no il contenuto che questo canale è pubblicato vedete le trovate qui le notifiche sicuramente le riceverete anche via email nel caso abbiate scelto anche questo tipo di opzione vi ringrazio per l'attenzione con questo è tutto abbiamo concluso questa serie di tre video tutorial che erano dedicati proprio a come ci si iscrive ai vari social media di digital store network e come si possono ricevere le varie notifiche questo vi semplificherà la vita sicuramente vi darà la possibilità di non dover correre tutte le volte o pensare oddio chissà che cosa ho perso ma dal momento che pubblichiamo molto di andare a selezionare gli argomenti con un semplice clic del dito sul vostro cellulare o sulla vostra email grazie di nuovo ci rivediamo il prossimo video